Sì, sì, sicuramente è stata una partita abbastanza difficile, infatti il primo tempo l'abbiamo chiuso sull'1-0, abbiamo studiato bene la squadra perché anche sapevamo che non venivamo a fare una partita facile, anche perché ultimamente ci stavano capitando troppi big match anche in base alla classifica, il Finiti stava un punto sotto a noi e noi dovevamo per forza vincere e abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, infatti abbiamo meritato la vittoria. Siete voi l'antagonista della Virtus Latina Scalo? Penso di sì, penso di sì, anche perché abbiamo disputato in casa nostra un'ottima partita con il Latina Scalo e ci siamo complimentati a vicenda perché è stata veramente una bellissima partita, un bel gioco, penso neanche di Serie D, forse anche qualche categoria superiore. Mister Palluzzi, l'atletico Sperlonga ha spugnato il campo del Faiti, qualche recriminazione per la direzione di gara? C'è un rigore, una grande giornata anche del portiere Rosato? Guardi, qui è arrivata una squadra a Sperlonga ben organizzata, ha meritato, ha vinto, il partito ha giocato alla pari, loro sono bravi, sono veramente bravi, io però penso che finché in queste categorie di Serie D continueranno a venire i soggetti come il diretto perché mi recito pure che sarà maleducazione, ma definirli soggetti, non meno persone, come la persona che è venuta oggi ad arbitrare, le partite io mi rifaccio solo all'intelligenza dei ragazzi dello Sperlonga e del Faiti perché qui altrimenti finiva veramente male anche a botte ma sul serio. Quindi complimenti allo Sperlonga, grandi persone, grandi giocatori, ottima squadra, ce la siamo giocate alla pari. Però anche dalla panchina dello Sperlonga mi viene detto, nella loro perfetta correttezza, che il colpo sul mio giocatore nel rigore si è sentito perché i ragazzi dello Sperlonga sono correttissimi, solo lui ad un metro non l'ha visto, finché arriveranno queste persone a dirigere queste partite il calcio a 5 provinciale non andrà mai avanti, mai migliorerà. Questo soggetto ha fatto e non continuo perché non posso. Il Faiti indipendentemente da questa sfida però quali obiettivi ha in questo campionato? Il Faiti è una squadra costruita praticamente al 29 di agosto, se noi arriveremo settimi ottavi avremo vinto il campionato per noi. Adesso siamo lì e ci stiamo divertendo. Mi sono reso conto anche che, ripeto, nella grande squadra dello Sperlonga ci siamo giocate alla pari più o meno fino alla fine e sono stracontente. A me va benissimo il risultato, va benissimo. Questo è il nostro obiettivo, settimi, ottavi. Poi ragazzi è normale, stiamo in mezzo al campo, quello che viene di più è tutto di guadagnato. Però vorrei che magari noi, ma anche le altre squadre, perché questo non è il primo, dovremmo perdere con le nostre forze. O meglio, l'avversario ci deve battere con le loro forze. Non aiutati, no, non l'hanno aiutati. Non con gli errori degli api, perché i ragazzi dello Sperlonga hanno meritato di vincere. Punto. Non posso purtroppo per evitare querele di finire il signor Api. Grazie. 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 Grazie.